Assestamento di bilancio oggi Consiglio Comunale a Chieti, battaglia il caso di dire in Consiglio Comunale Sindaco? Sì, battaglia, battaglia tutto sommato prevedibile, ahimè anche con tanta sciocchezza da parte politica, da parte delle opposizioni che continuano a fare un ostruzionismo assolutamente vuoto, senza alcun senso. I problemi ci sono, li conosciamo tutti, noi ci stiamo mettendo faccia, senso di responsabilità e tanto lavoro per salvare il bilancio del Comune e per salvare la città. Loro come sempre ci mettono un siparietto da teatro di terzo livello, sono contenti loro, saranno contenti anche i loro elettori. È la terza volta, il terzo anno consecutivo che c'è parere negativo sulle previsioni del bilancio e anche con il nuovo collegio di revisore rimane questo dubbio forte della gestione finanziaria dell'ente che a parere dei revisori non porterà sicuramente niente di buono per l'ente. Ecco, noi stiamo cercando in qualche modo in aula di far evidenziare queste problematiche e in particolare le previsioni di entrata sono sempre sovrastimate rispetto poi a quello realmente accertato. Questo porterà al collasso come già è di fatto l'ente e sicuramente andremo sempre più verso il dissesto da parte dell'ente. Grazie. 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 Grazie.